Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito Bid Park, andremo a sperimentare con la resina UV, con questo bellissimo stampo. Ho scelto solo questo dal sito di Bid Park come stampo, lo trovo davvero molto carino per creare delle catene in resina, ci sono due tipologie di ovali, questo in misura 30x15 e questo invece in misura 27x17. Sono davvero molto carini, li trovo adatti sia per realizzare delle collane, degli orecchini, ma anche degli elementi per quanto riguarda dei bracciali o anche dipendenti, perché no? Si può spaziare tantissimo con questo stampo. Vi ricordo che sul sito di Bid Park attivo il mio codice sconto che è questo qui, è appunto gd3off02 per avere il 3% di sconto senza minimo di spesa. Questo è l'ultimo codice che mi hanno fornito il sito di Bid Park. Poi successivamente se ci saranno altre collaborazioni verrà sempre aggiornato e quindi cambierà di volta in volta. Quindi vi ricordo sempre di andare a cliccare sempre sull'ultimo video in collaborazione appunto con la ditta, in questo caso Bid Park. Quindi andiamo a sperimentare con questo stampo con la resina UV. Io sto utilizzando questa qui dell'area schimica acquistata sul sito di Doitu e l'ho presa in sconto con il mio codice sconto giù la 35 per avere appunto il 35% di sconto su tutti i prodotti del sito di Doitu. Quindi vi lascio anche il link di questa resina che la trovo stra stra ottima. Infatti qui già in passato l'ho utilizzata sia la confezione questa da 25 e ho utilizzato anche la Filcrystal UV White. Mi sono sempre trovata benissimo con queste con queste resine quindi ve le consiglio. Vi lascio ovviamente il link in descrizione con appunto entrambi i codici sia per quanto riguarda Bid Park e sia per tanto riguarda Doitu. Eccomi, ho scelto le colorazioni da utilizzare, vado ad utilizzare questi pigmenti qui liberi, con queste quattro colorazioni e vado a realizzare appunto questa tipologia di stampo, questo appunto con questa sorta di barretta, quindi un ovale aperto. E poi ho scelto di realizzare questo qui chiuso, questo ovale qui chiuso con il pigmento, questo qui oro. Questo è il pigmento specchio che si utilizza anche per la nail art, quindi tutti i pigmenti liberi vanno benissimo ovviamente per la resina UV. Vi consiglio sempre di mettere sempre poco poco pigmento. Quindi vado a versare all'interno di questa coppetta qui in silicone la resina UV, quindi vado a creare il primo colore e vado a creare questo qui arancio. Ne prelevo proprio una puntina ed ecco qui le quattro colorazioni, il viola, l'arancio, il fucsia e il turchese. Quindi adesso vado a versare la resina nello stampo. Ed ecco qui ho versato appunto le quattro colorazioni, dopo ovviamente andrò a versare altre due di queste qui fucsia. Ed eccole qua. E adesso con un dotter vado a ripercorrere i bordi esterni ed interni dell'ovale, in modo da togliere anche le eventuali bollicine. E ovviamente puliamo lo stampo dove c'è quel piccolo eccesso di resina. Ovviamente controlliamo se tutte quante hanno la stessa quantità di resina, infatti noto che qui manca un po' di resina, quindi adesso vado ad aggiungerla, in modo da avere degli elementi resina tutti quanti simili barra uguali. Ovviamente questo passaggio vado a farlo anche per le altre colorazioni. Questo è il risultato e adesso metto lo stampo in lampada. Rieccomi, questo è il risultato. Adesso ovviamente con i medesimi passaggi vado a realizzare anche questi ovali qui con il pigmento questo qui a specchio oro. Ah, e ovviamente vado a colare altri di questi ovali fucsia. Rieccomi, vado a versare questi qui oro e come vedete mi ho realizzati anche due multicolor. Quindi adesso vado a versare questi qui. Questo è il risultato, ho creato appunto degli anellini chiusi dorati, questo qui multicolor e poi ho realizzato questo qui aperto con il trasparente e il turchese. Quindi adesso inserisco lo stampo in lampada. E questo è il risultato. Adesso semplicemente vado a modificare alcuni elementi. Vedete dove è presente un po' di eccesso di resina, tipo in questo punto o anche in questi punti. Quindi vado a fare questa operazione col mio trapanino della Tracklife, ovviamente con una punta piccola. E quindi scelgo questa qui. Ovviamente vi lascerò il link anche del trapanino in descrizione. Una volta effettuata questa operazione vado a sgrassare tutti gli elementi in resina con semplicemente dell'alcol denaturato. Quindi un fuzzolettino, alcol e vado a sgrassarli. in modo da togliere quella sensazione di appiccicaticcio. ed eccoli qua pronti per l'utilizzo. Adesso semplicemente vado a collegare i vari ovali, alternando sia questo chiuso a quello aperto. E ovviamente alternando anche i colori. Rieccomi questo è il risultato. Ho collegato gli ovali sia quelli chiusi che quelli aperti. e questo appunto è il risultato. E adesso poi andrò a creare anche due paia di orecchini con questi ovali qui. Poi questo è avanzato. E poi ho collegato anche questo ovale qui aperto. Vedete sono tutti quanti della stessa tipologia. E ho notato che se appunto colleghiamo questa tipologia di ovale non c'è bisogno di bloccare la parte questa qui aperta. Invece nel caso della collana dove ho utilizzato due tipi di ovali, uno più sottile e uno un po' più largo e aperto, in questo caso qui bisogna bloccarlo perché ovviamente è instabile in questo modo. E stavo pensando di bloccare questo ovale in due metodi. Il primo metodo è quello appunto di schiacciare entrambe le due parti, aggiungere un po' di resina trasparente qui nel centrale e poi catalizzarlo in lampada. Oppure semplicemente andare a bloccare delle microsfere in metallo o anche delle perle, dei cipollottini, qualsiasi cosa si vuole, sempre col medesimo discorso, un po' di resina qui in entrambi i lati, bloccare la perlina. Adesso vi faccio un esempio con questa qui da 4 però è leggermente grande. Provo a inserirla all'interno così da mostrarvi quello che... ecco qui. Questa è da 4, al limite da 3 è perfetta. Vedete, bloccare sempre quel punto lì con una perla che il risultato è davvero carinissimo. Al limite, come dicevo prima, con una perla da 3 mm invece da 4, perché da 4 si apre un po' troppo. Invece da 3 mm secondo me è perfetta. Un'altra alternativa, adesso, pensando, posso utilizzare ovviamente anche le perle da 4, perché ho questa punta qui in dotazione con la sfera, vedete, sempre con il trapanino che vi mostravo prima, e al limite posso creare dei piccoli solchi sia in entrambi i lati e poter fissare tranquillamente anche una sfera da 4 mm. Quindi vado ad effettuare questi solchi e vado ad aggiungere queste perle qui in acciaio. In questo modo. Adesso, ovviamente, con un fazzolettino di carta vado a rimuovere tutta la resina, la polvere di resina. In questo modo. Poi prendo una coppettina in silicone, un po' di resina sempre trasparente. un pennellino in silicone e vado a sporcare entrambi i fori che abbiamo appunto realizzato. Ok. In questo modo. Io ovviamente catalizzo il lampada. Questo è il risultato. Una volta catalizzato, aggiungo un altro po' di resina in modo che vado a livellare e a incorporare per bene la sfera in metallo. Quindi basta un po' di resina e poi con l'altro lato di questa pennina in silicone vado a livellare il tutto. In modo che vado anche un po' a lucidare l'elemento. E poi semplicemente in lampada. E in questo modo, come vedete, vado a chiudere tutti questi anellini con questa sfera in metallo. Rieccomi, ho realizzato la collana. Ho aggiunto questi due segmenti di catena in alluminio per poter aggiungere anellino in moschettone. E poi, come vedete, ho aggiunto tutte queste sfere in acciaio per poter chiudere questi elementi ovali in resina. Il risultato è davvero molto molto carino. Me le immagino già su una camicetta bianca, un paio di jeans e questa collana oppure una semplice t-shirt, perché no. Ho realizzato anche due versioni di paia di orecchini. Questa è la prima versione, dove c'è appunto l'elemento in resina, resina trasparente e resina turchese. E poi ho aggiunto questo semplice anellino in acciaio chirurgico preso sempre dal sito di Bid Park. E poi ho realizzato questa versione qui, davvero carinissima, sempre con il medesimo cerchietto. E poi quest'altra versione che anche mi piace tantissimo, dove ho aggiunto un piccolo, un anellino della catena, appunto questa qui in alluminio, per richiamare ancora di più tutti gli elementi della collana. E poi questo perno, questo qui, questo perno tondo. Il risultato mi piace davvero tanto, poi questo elemento in resina tutto sfumato dai vari colori della collana. Ho creato appunto la parurra. Davvero molto molto carino. Voi cosa ne pensate? Poi ovviamente vi mostravo anche questo piccolo seguimento. Al limite andrò a farci un braccialetto, perché no, e questo al limite un pendente. Io spero che i miei sperimenti con la resina UV siano stati di vostro cadimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!